Questa serata per esempio, prima devo parlare un po' del giardino del Palazzo Campagna. Il giardino del Palazzo Campagna è stato chiuso dal 1962, l'ho appena riaperto e abbiamo portato per esempio stasera a Salvatore Cauteruccio, che è uno dei migliori sassofonisti della regione di Calabria, anche dirò che è un po' dell'Italia e stasera ci sarà anche il figlio di Ella Fischera, Ray Brown Jr., Elena Welch, Sammy Scott e Ceci Santana del Brasile. Questa mi auguro che sarà la serata più bella di tutto. Abbiamo fatto quattro serate e oggi è la chiusura. Mi auguro che sarà una bellissima serata. Tanti abitano qua, però altri sono venuti, hanno comprato il biglietto online, stanno arrivando dal Canada e Stati Uniti, quindi mi sento molto commossa perché penso che sto facendo una cosa che è l'International Tyrannian Jazz Festival. Ho già creato un nome, ho già creato un evento che non si farà solo al Palazzo Campagna, però anche alla regione della Riviera del Cedro, che è il piccolo paradiso che abbiamo in questa zona. Quindi faremo l'International Tyrannian Jazz Festival, altro che al giardino del Palazzo Campagna, sarà a altri posti, in San Nicola Arcella, a Diamante e Santa Maria del Cedro. L'idea è portare un po' di cultura, jazz, musica in questa regione. L'idea è portare un po' di cultura, jazz, musica in questa regione.